Salve a tutti, io sono TheLongamer e benvenuti alla prima parte del secondo episodio di Tell Me Why. Dopo il grande colpo di scena dello scorso episodio, scopriamo che i due gemelli hanno avuto un'infanzia abbastanza felice, che c'era un sacco di gente pronta ad aiutarli e che hanno già incontrato in passato di persona il cacciatore matto. Buona visione! Oh, vedo che come su Life is Strange 2 ti raccontano ciò che è accaduto tramite una favola per bambini. Ah, vedete che hanno rappresentato tutti i personaggi, come i personaggi delle loro storie. Quando in realtà l'oscurità aveva invaso la sorella, zan zan zan... è stato un bel colpo di scena, ammetto. Mi piace che il goblin che rappresenta Tyler ha la sua stessa giacca con l'uccello dietro. Detto così suona male ma ci siamo capiti. Ah, si tratta del poliziotto, Sam l'imbriacone e Tessa, quella che ne sapeva degli altri. Sto cercando di scoprire perché l'oscurità aveva submergito la grande casa cazzo. Ok, dopo il colpo di scena dello scorso episodio, pretendo che mi diate delle risposte adesso. No, 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 non pensate di cavarvela così. Io devo sapere perché c'era il cacciatore matto. Madre, tutto bene, la vedo un po' triste e depressa. Pocco cane, quello è gelato per otto persone. Sembra che a quel tempo ancora se la passassero bene. Forse madre non era completamente andata fuori di testa. e si tratta la tiara nel terrore sotto la sapola. E quando il cuore di scopo di dolce si tratta, la tiara si tratta veramente morta. E con l'altra, il final link a la sua vecina self. La poteva solo andare avanti e trovare un nuovo posto per herself in questo mondo. Oggi non era più veramente una pranzetta in una tiara e una bella bellissima. Ma una woman, solita, in una dottima e antica. Sta parlando di se stessa? Non mi piace questa storia. Non c'erano i goblini e era depresivo. Non lo leggiamo ancora. Lo amo, mamma. Non me. Un pochino. Lo amo, mamma. Lo amo anche te. Cos'è stato a mandare questa donna completamente fuori di testa? Cioè, nonostante sia una madre abbastanza bizzarra, era comunque una donna molto dolce che si prendeva cura delle proprie figlie. Ok, vivevano da sole, in mezzo alla foresta, ma non c'è niente di male in ogni caso. Oli? 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 Si sarebbe salvata. Almeno non mi sembrava una ferita così letale. Poi tecnicamente se a coltelli qualcuno sei stato accoltellato, non dovresti cavare le forbici, il coltello o qualunque cosa. Assolutamente le forbici o il coltello tamponano la ferita, vengono bloccati i vasi sanguigni e pertanto quando vai a cavare l'oggetto muori di sanguato. Ammetto, non mi sarei mai aspettato, che l'assassina sarebbe stata Alison. Ecco, ora sappiamo perché era così traumatizzata. Perfetto. Alison. Ho matato la mamma. Ho matato. Porco cane. Capitolo 2. Segreti di famiglia. La cosa più strana tuttavia, è che sembra che i personaggi creati da nostra madre stiano prendendo vita quantomeno il cacciatore matto, o come si chiamava santo cielo. Probabilmente anche nostra madre aveva un potere, che deve aver preso una brutta piega, deve essere degenerato probabilmente, mano a mano che la sua presunta malattia mentale prendeva il sopravvento. Erano anche delle bambine felici, eh. Ma presumo che abbiano avuto una buona infanzia, fin tanto che la madre non è andata fuori di tetto. Aspetta, quella era un'Alison cresciuta. Che sta accadendo. Ah, ti passano dai... Da loro che erano bambini a loro che sono adulti. Ammetto. Questa come scena è studiata bene. La cosa che temo tuttavia è che, dato che ci sono tre capitoli, di solito c'è il capitolo iniziale che ti presenta i personaggi, il capitolo finale che conclude la storia in maniera incredibile, via dicendo. E poi c'è il capitolo di mezzo, che è questo capitolo 2, che di solito funge da ponte. Sapete bene che nei film, nelle trilogie, via dicendo, è quello un attimino più debole dove non accade nulla. Spero di sbagliarmi, effettivamente. Sarò onesto in video Tyler e Alison, più che altro per il loro rapporto. Ok? Che erano coetanei, essendo effettivamente gemelli nati nello stesso momento. Ma io ho avuto sempre un rapporto di M, orribile, con mio fratello, perché c'erano 11 anni di differenza e caratterialmente siamo due persone molto differenti. Detto in parole povere mio fratello, un S-T-R-O-N-Z-O, di dimensioni bibliche, ma vabbè dettagli. Davvero un peccato, perché sono cresciuto praticamente sentendomi sempre un figlio unico, onestamente. Lui sembrava più il figlio adottato, fidatevi non è adottato, che è un po' la pecora nera della famiglia, quello che non c'ha voglia di far niente, quello che crea problemi in continuazione. Anche adesso che c'ha 40 e passa anni, crea problemi in continuazione. Ma vabbè, non importa, sono cose che capitano nelle famiglie. Ribadisco, bellissima come scena, però se iniziasse il gioco, perché sto finendo gli argomenti di cui parlare, effettivamente. Ribadisco che vedere Tyler in versione Holly, ovvero con i capelli legati dietro la testa, mi fa strano perché è ancora troppo bambina, fin tanto che ovviamente non farà la transizione in futuro, continuerà ovviamente a sembrare di più una donna. Quanto meno a livello estetico, perché a livello caratteriale, rispecchia perfettamente la natura maschile, che effettivamente lui è un maschio. E tanti saluti, questo che la gente non riesce a capire. Non si giudica un libro dalla copertina. A proposito di libri, siamo tornati nel presente. Ah, ma guardali che uniti e che dolci. Vi invito tantissimo, ragazzi. Non perché avete ammazzato vostra madre, ma vabbè, dettagli. In effetti, è vero. Ciccio, ai 21 anni non dipendere dalla caffeina già così giovane, santo cielo. C'è tutto il tempo per rovinarsi con le varie sostanze. Oddio che voglia di gelato che ho! Che schifo! No, cioccolato e menta no, è un crimine santo cielo. Allora, la stanza di madre. Buttiamo via tutto? Ahahahah! Bellissimo il post-it, effettivamente. Ok, ricominciamo questo capitolo nei panni di Allison. Perfetto, diamoci da fare e vediamo di sistemare la casa in modo tale da renderla pronta. Per la vendita abbiamo il tavolo. Ah, lo doniamo, santo cielo. No, guai. Questa è spazzatura. Chi diavolo è che ti comprerebbe sta roba? Devono ringraziare Tessa che ogni tanto gli portava da mangiare. Che hai trovato, ciccio? Aspetta, è arrivato un ricordo. Da quell'affermazione è spuntato uno dei nostri ricordi del passato. E' vero, è Sam, lo riconosco dalla barba. Ah, che schifo. Cosa hai fatto con lui? È ok? Sicuramente è. L'ha venuto a procurare la città e non potrebbe tornare fuori. Alla che aveva bisogno era un piccolo ruolo per portarlo. Sam Kansky. Hero di Skunk Kind. Mi ricordo di essere super impressionato da lui. E mi ha fatto anche essere un super hero wild animal. Ammetto, questa casa in sé non è male. Ha bisogno ovviamente di una bella sistemata. Bisogna buttar via tutti i vecchi mobili, i divani e il resto. Ma ha in sé una carteggiata al pavimento, una sistemata qua e là, una mano di pittura. A parte che qua c'è carta da parati, ma vabbè. Voglio dire, con una bella sistemata questa abitazione può venire fuori un piccolo gioiellino. Allora, abbiamo il tavolo anche di qua. Quanti tavoli c'ha sta famiglia? Oddio, non è male onestamente. Io lo terrei, è grosso. Qualunque animale ci fosse lì dentro è morto da tanto tempo. Aspetta, aspetta, che abbiamo un altro nuovo ricordo. Lasagna, lasagna, lasagna! Fini il tuo salato prima. Grazie, Tessa, sei una salvaguarda. No, non ti preoccupi. Ci sono solo dei lavori del ristorante. E cosa su Volkino? Ha bisogno di mangiare la cena anche. Oh, è vero bene, amore. No, non la mia carne. Ecco, piccola. Deve essere freddo anche. Tessa, veramente, ci siamo tutti freddi. Ha sempre cercato di cuidare di tutti. Alison, ho chiesto di pulire la tavola tre volte già. Ops, ho scoperto. Ci penso io. Lasciami fare, fratellino. Fratellino, ti devi levare dalla ciolla. Porca di quelli per porca. Ecco qua, diamo una bella pulita. Il tavolino da caffè. Beh, sto coso qua... Tu che ne pensi? Scarico la responsabilità. Se c'è qualcosa che vuoi, parli ora. Non ho davvero planificato di portare le freddo in Denali. E se ho bisogno di base in Juno, ti avrai tutte le freddo che ho bisogno. Che molto non committuali. La caffè ha un ticket di un po' percorso. Noi protesti qui. Penso che ho un damage permanente per un decadino di riuscire nel corno di queste cose. Ahahahah! E' tutto per la sala di riuscire. Sei rilassato dai vostri trattori. Sei ingerito? Abbiamo... un po' di nulla. Ma che schifo! Ma americani, ma mangiate cose sane, santo cielo! Scusate, signor. Siamo tutti fuori di piccoli oggi. Potrei interessarti in un sandwich solo di ketchup? Sembra che c'è ancora una bottola qui qui. Eww. Dice il ragazzo che aveva mangiato il pietà con il ranch. Mmm, è molto buono. Ehi, potresti venire per un secco? Sì, arrivo. Ma perché gli americani c'erano una passione per la salsa ranch? Cioè, in Italia non la mangia praticamente nessuno. Beh, questa va tenuta, ragazzi. Ma no! Ma sono ricordi piacevoli. Avanti! I mean, most of them are pretty happy memories. I guess. You look cute here. That's not me. I mean, it is, but... But... You remember how I'd spend hours in front of the mirror just gathering all my hair behind my head? Sure. Dressed like this? With the long hair? It was like no one could really see me, you know? I was the invisible boy. Damn. I didn't think a picture could throw me like this anymore. Oh, povero. No, beh, è anche comprensibile effettivamente. Tu sei un uomo internamente, ma esternamente al mondo appari come una donna e questo cauta. Quella che se non ricordo male dai tempi di psicologia all'università si chiama disforia di genere. Ovvero una sorta di fastidio percepito dalla persona che non si identifica con la propria sessualità fisica. Perché magari il corpo, come nel caso di Tyler, è femminile mentre lui si percepisce come uomo e quindi ti causa questo comprensibile disagio. Perché non c'è tendenzialmente soluzione se non con piccoli interventi per cercare di cambiare la sessualità del proprio corpo. Vediamo un po' se la terapia lo ha aiutato. Ok, Tyler ha praticamente confermato ciò che pensavo per quanto riguarda la sua condizione. Immaginavo che avesse fatto solo la terapia ormonale per farsi crescere i peli della barba e via dicendo. Ma ancora immaginavo che non avesse fatto interventi più, diciamo, invasivi, ovvero la rimozione del seno. Che per loro fortuna è abbastanza piccolo, quindi almeno a Tyler ha causato, presumo, meno problemi nella percezione della propria immagine. E poi ci sono anche altri interventi, ovviamente. Ognuno decide fin dove arrivare. Ma è traumatico sia per la persona che per il corpo, quindi non sono scelte facili, voglio dire. Allora, vediamo un po' un'altra foto qua sotto. E quello chi è? Ah, credo sia lo zio, effettivamente. Sta arrivando un nuovo ricordo. Ah, ragazzi, del settore transgender, via dicendo, ho una conoscenza proprio basilare. Quindi se dico qualche castroneria vi prego di perdonarmi perché, ammetto, ho un'ignoranza per quanto riguarda il resto delle conoscenze. Quindi siate pazienti anche con me. Allora, abbiamo un ricordo proprio qua in salotto. Vediamo di cosa si tratta. Ammetto io, odiavo quando mia madre doveva pulire il pesce. Io adoro il pesce. Sapete bene che io non mangio carne, l'ho ripetuto 8.026 volte, ma il pesce sì. E tanto qualcuno è riuscito a rompermi le palle nei commenti. Ma perché ci mangi la cagna e il pesce? No, ma potrò mangiare quel che cavolo mi pare. Ehi, Alison, vieni a prendere con me. Sì, arrivo un attimo. Dicevo, potrò mangiare quel che cavolo mi pare. E la gente no, deve romperti le scatole anche su quello. Cioè, dicessi, il mio stile di vita è meglio del tuo, capirei, sono un rompipalle. Ma invece no, non ho mai fatto propaganda o altro. Vabbè, non importa. Abbiamo un altro ricordo qua fuori. Ehi, Eddie, ora. Prendi il tuo tempo. Non va a saltare e fare il cha-cha. Che cosa per me? Voglio pulire i pesce, anche. Non è anche il tuo pesce. Tu non ho capito nulla. Solo perché tu non potresti parlando di parlare e ha scoperto tutti i pesce. Guardate i tuoi occhi su quello che stai facendo. Alison, quando siamo finiti con questa parte, puoi prendere e fare l'altra. Questo sembra vero. Sì. Sei certo, ero un po' di essere Brad. Giusto un attimino, almeno lo hai ammesso dopo tanti anni. Ragazzi, farà un freddo bestia qua dentro. Iniziamo il freddo di nuovo? Sì, vorrei cogliere un'acqua. Vuoi qualcosa da drink? Abbiamo del caffè solubile oppure del tè. Conoscendo Tyler sicuramente berra del tè. Pearl, Grey o chai? Tu sei un'altra. Sto preparando una buona coppa di Joe. Ma davvero? Ho un buon 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 buon. Sì. Sì. Che è stato? L'Ice King è mandato una notizia. Dopo quello che è accaduto lo scorso episodio, è anche normale che mi salgano un po' di preoccupazioni. Intanto è comparso un altro ricordo. Sì. Sì. E' una mia impressione o tutti questi ricordi del passato sono positivi? Sì. Ma proprio tutti. Mi sembra abbastanza ovvio. Scusate. Scusate. Questo ovviamente è lo zio Eddie perché ci ha aiutato a pescare. Abbiamo l'orso che sicuramente è Sam perché l'orso è peloso e Sam ha una barba di dimensioni bibliche. Ed infine abbiamo il pellicano che forse era quello che portava il cibo. Pelican. Si è stato il più generoso. Sì. Ma sempre c'era un cibo. Decisamente stiamo parlando di Tessa su questo non si discute che è lì. Vediamo un po' se... Perfetto. Ed è chiaramente Sam su questo dove si discute che è proprio lì a destra. Ed infine abbiamo il caro buon vecchio zio. Jerry voglio dare la risposta senza aiuti da casa. Sì assolutamente sì. Oh no. Quello sappiamo che purtroppo esiste perché non era solo nella testa di nostra madre ma era anche comparso alla stazione di polizia. Oh oh. Che succede? Che succede? Non lo so. È qui? È davvero qui? È davvero qui? Oh no. Sì! Andiamo alla forza! Oh mio Dio sono stati loro ad evocare il cacciatore oscuro? Ma mi prendi in giro? Vabbè! Si è girato verso di noi nel futuro? Ho scoperto di questo. Stavamo pretendendo che era lì. E poi... Purtroppo era. E' stato l'unica volta che è successo, certo? Bussano a quest'ora del mattino. Chi potrebbe mai essere? Usate una cosa. Non è che forse loro non solo sono in grado di rievocare i propri ricordi ma forse anche di materializzare eventuali proiezioni, fantasie e via dicendo. Appunto. No, assolutamente no. Sam, dove cavolo vai? Torna qua. Sempre gentile, Sam. Non è che... Grazie. È stato molto pensato. Allora, ascoltare, ho... Voglio rilasciare per scartare a te l'altro. Non ti ho. Tu hai fatto. Tu hai fatto. Sì. Ah... 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 Tyler si sente minacciato come figura maschile all'interno della casa Sembrano effettivamente due maschi alfa che stanno pisciando per segnare il proprio territorio Ok allora vediamo anche di sistemare il pannello elettrico Dai ma santo cielo si sta facendo in quattro Sam Ok è sempre che viene a romperti le scatole Ma porco cane guarda che è davvero una persona fantastica da quel punto di vista Sam ti ringrazio sei davvero un animo gentile e nobile Addirittura Oh ma c'era sempre una roba incredibile No costruire un finire non è due faccende Dai non potete trattarlo in questo modo Molto probabilmente Ragazzi non spaccate la maniglia Tyler lascia fare a lui Lascia fare a lui dicevo Sapevo che sarebbe andata così dannazione Alison dove stai andando è partita via all'improvviso Vi comportate come due bambini di otto anni ma vabbè dettagli Allora vediamo di far ripartire la corrente in sta cavolo di casa Grazie so come funziona un fusibile santo cielo Allora vediamo abbiamo un po' di informazioni Mary Ann ti ho chiuso la centralina Ora devo scappare ma in caso tu voglia controllare Fa attenzione a non sovraccaricare i circuiti Devi usare i fusibili da 15A per il garage Servono un totale di 120A per tutta la casa Sam ps sono molto fiero di me Per una volta ho rispettato il codice dei colori Ogni fusibile dovrebbe avere il cavo del colore giusto Ah ok non è un problema Quindi come potete vedere Il fusibile da 15A è blu Dabbi dabbi dai pertanto Qui dobbiamo mettere un altro fusibile da 15 Presumo Ora santo dal tonismo abbiamo tre cavi Che sono o gialli o verdi Non dobbiamo andare oltre i 120 Pertanto se ne mettessimo Tre da 30 andremo a 90 che è troppo Pertanto Ne mettiamo invece tre da 20 E così facendo Una volta che li avremo posizionati tutti Arriveremo effettivamente a 90W Poi se mettiamo l'ultimo fusibile in alto da 30 Eh si 30W 30A Quindi se mettiamo l'ultimo fusibile da 30A Arriviamo a 120A Ok Corrente fatta ripartire E lui disse sia fatta la luce Oh meno male Ad averlo saputo ieri sera Potevamo accendere uno scaldabagno in casa Dovremmo essere morti di freddo stanotte Santo cielo Oh no Il portafucile di nostra madre Perché ho la vaga impressione Che il fucile di nostra madre Glielo possa aver dato sempre Per difendersi Voglio dire Viveva in mezzo alla foresta Probabilmente si sente colpevole Perché l'arma che gli ha donato lui È quella che poi ha usato lei Vabbè non è che si sia uccisa Ma ci siamo capiti Quindi questo Oltre a essere il garage Era anche praticamente Uno dei laboratori Di nostra madre Perché sapete che aveva Una manualità assurda E faceva anche tutti i giocatori Per i bambini Guarda quanta roba Ah guarda Ne parlavo proprio adesso Mi pare un po' eccessivo Beh se aveva un disturbo mentale E comprensibile Che abbia voluto isolarsi Un pochettino dalla società Cosa hai trovato ciccio? La macchina? Ah no Ha trovato un ragno Che schifo If we end up living together You should know My house has a no spiders rule Well In my house We don't kill them Ugh You can take them outside then What did you find? Do you know who that is? Uh yeah That's Carol Eddie's mom I've seen other pictures of her But Never this one Man Look at Brown And Marianne She looks really happy Can I? Careful The glass is Broken Are you okay? It stings Let's go see Ok Se a quanto pare La maggior parte dei ricordi Per adesso sono positivi Quindi mi domando Cosa sia successo Per far impazzire Nostra madre Nei suoi ultimi mesi di vita Gente Per questo episodio Allora è tutto Nei commenti Fatemi sbagliare cosa ne pensate Lasciate un bel mi piace Internella serie E noi ci vedremo Nel prossimo episodio Ciao ciao